La paura di non subire gol la fa da padrona per buona parte della prima frazione di gioco. Cosenza e Brescia si sono avvicinate al match con paura e voglia di non farsi vedere. La prima occasione del match al 17 con i padroni di casa pericolosi consigli. La partita si infiamma gradualmente, la risposta del Brescia arriva con gli Stkowski e Aie. Nella ripresa partenza lanciata del Cosenza ma il Brescia, su palla inattiva, sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Bisoli che finisce sulla traversa. Scampato il pericolo, i calabresi passano in vantaggio con Asti che, sempre di testa, risolve una mischia in aria. È gol che decide il girone d'andata, verdetto al Rigamonti tra una settimana.